Sono la Cop in Norvegia e ogni confezione ha un prezzo, questo ad esempio sono due corone e mezzo e adesso le mettiamo dentro questa macchina infernale La Copa del Torno Adesso ho finito e spingo, puoi scegliere anche di fare una donazione, spingo, viene dato uno scontrino con 13 corone che sono 1,30€ più o meno e puoi spenderla alla cassa. In Norvegia funziona così.